Com'è la sentenza? Com'è la sentenza? Com'è? 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 Silvio! 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 La rimanda all'appello. Com'è? Annulla e rimanda in appello. Una alla pelle e l'altra rigettata. Tre corte d'appello. Si rincorre in appello per la pena? Fermata la condanna all'arresto. La condanna? All'arresto. E' rinviata solo per la pena accessorica. Non è così! Penso che noi chiederemo a gran voce e in tutti i modi democratici possibili la grazia per Silvio Berlusconi. E' un origine di tutto! Silvio! Silvio!